Omari Forson è un giocatore di cui si è parlato molto, ho visto tra i vari creator, intorno a tutti i youtuber o altri comunque che vi consigliano i giocatori, io vado un po' controcorrente, non tanto perché non sia un giocatore forte in assoluto, o comunque un giovane forte, però chiaramente arriva dal Manchester United e questo porta un po' a far salire l'aspettativa su di lui. E' vero è andato via Colpani, ma comunque arriverà Maldini e forse qualcun altro, quindi non credo che sarà a titolare. E' un giocatore, sì, che lo vedi, è abbastanza veloce, anche agile, si sa muovere abbastanza bene, però io ho sempre visto fare delle scelte, o comunque spesso non perfette, quindi come sapete io non mi piace dire che siamo tutti forti, e quindi è giusto sconsigliare qualcuno. In realtà lui magari col tempo potrebbe anche migliorare, però per adesso non lo vedo un giocatore che possa avere un così grande impatto sul calcio italiano, sul Monza, perché deve migliorare parecchie cose, è vero che si può migliorare soprattutto a quell'età, anche velocemente, proprio perché sei plasmabile, ma è malleabile da parte dell'allenatore, tra l'altro Nesta comunque da quel punto di vista ha fatto migliorare tanti giocatori anche in passato, magari non ha ottenuto risultati pazzeschi, al Frosinone, alla Reggiana, ma ha fatto migliorare qualche giocatore, insomma ho visto dei giocatori che erano veramente modesti, che sono diventati più forti sotto la sua guida, quindi insomma Nesta da quel punto di vista dell'insegnamento, nonostante fosse un difensore, quindi magari uno può pensare che poteva aiutare solamente i difensori, ma anche ho visto degli attaccanti o quegli esterni che sono migliorati tanto sotto la sua guida. Quindi non escludo che possa migliorare molto forse, neanche perché qualche numero ce l'ha, come detto appunto, ha una buona velocità di base, in generale sa controllare bene il pallone, sa toccarlo, lo tocca troppo secondo me, in questo momento lo tocca veramente tanto, sì se ne libera abbastanza, però a volte con un ritardo, come detto le scelte, anche il posizionamento in fase difensiva non mi piace molto, quindi non lo vedo di impatto subito, col tempo, con anche un paio di mesi, tre mesi, potrebbe anche migliorare, quindi insomma se vi andate a comprare un forson perché possa essere il vostro titolare, almeno io non lo farei. Se andate a comprarlo perché magari pensate che tra qualche mese possa avere un impatto maggiore, allora può avere più senso, però non lo vedo subito di impatto in Serie A perché secondo me deve migliorare in tante piccole cose che non si vedono alle amichevoli perché nelle amichevoli giochi con squadre comunque... Giochi anche partite competitive però non hanno la... insomma anche se giochi con una squadra di Serie B o addirittura anche di Serie A non c'è quella attenzione, quella cattiveria che ci può essere in una partita di Serie A in cui ti giochi i tre punti veri, quindi è un po' diverso, non lasciamoci abbindolare dalle amichevoli in generale, non solo su forson, che comunque secondo me più avanti può avere un impatto inizialmente non credo.